Renzi va a destra, Renzi va a sinistra, nasce il centro con Totti e Brugnaro. Molti di coloro che si sono scatenati in questi anni sul posizionamento dell'ex premier erano convinti che all'Assemblea d'Italia Viva si parlasse di alleanze così. Da ultimo, hanno deciso, per non restare troppo delusi, che Renzi apre a Letta. Evidentemente, senza aver ascoltato davvero quello che il leader ha detto e, soprattutto, quello che non ha detto. Certo, il riavvicinamento a Letta c'è stato, è iniziato con la partita del Quirinale e culminato nel voto del PD sul caso Open, in cui Letta ha dato mandato ai suoi parlamentari di schierarsi in favore del senatore di Firenze. Ma quello esposto da Renzi sul palco della Kermesse romana non è stato un piano di alleanze elettorali. È stato, semmai, un manifesto politico e culturale chiaro, in cui questa volta più che nel passato si è espresso nel solco della tradizione liberale europea, in cui si è allontanato in alcuni casi profondamente da quelle che sono le posizioni della sinistra in Italia. E' partito dal conflitto in Ucraina tenendo una posizione di forte realpolitik, ricordando come sarebbe diversa oggi la storia se venti anni fa si fosse avvicinata la Russia all'Europa in nome delle comuni radici cristiano-giudaiche, ma marcando anche la necessità che l'Unione e la Nato parlino con una voce sola, lanciando la proposta di Angela Merkel come mediatrice e denunciando il tentativo di sovvertire l'ordine mondiale di Mosca e Pechino. E ancora, ha rilanciato la proposta di creare un fondo europeo per le nostre aziende colpite dalle sanzioni alla Russia, mentre la sinistra organizzava fiaccolate e sventolava bandierine della pace nelle piazze del paese. Ha parlato a favore del nucleare in modo netto e senza sbavature, l'esatto contrario, fra parentesi, della posizione del PD di Letta. Ha rilanciato con convinzione il presidenzialismo, abbandonando l'espressione più soft che usava in passato per esprimere lo stesso concetto, sindaco d'Italia. Non un caso. Non un caso.